L'ha vessata per tutta la vita Mia madre non si è fatta valere quando sposò mio padre, disse Silvia. Perché chiesi? Perché mio padre l'ha vessata per tutta la vita col suo carattere infame. E che cosa avrebbe potuto fare tua madre? All'inizio del matrimonio, quando l'uomo è più malleabile, mia madre doveva imporre a mio padre le comprensioni che le erano venute a galla nel corso della sua vita. Ma non pensi che se tua madre non ha imposto a tuo padre le comprensioni che tu dici aveva raggiunto, non aveva ancora la forza di farle venire a galla nei rapporti con tuo padre? Che vuoi dire, chiese Silvia, infastidita perché minacciavo la sua logica? Voglio dire che l'incapacità di tua madre di reagire al carattere infame di tuo padre è stata l'esperienza migliore che tua madre poteva avere con tuo padre. E' stata l'incapacità di tua madre.